buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo delle osservazioni fatte con un microscopio stereoscopico poi abbiamo aggiunto anche una telecamera per microscopia stiamo osservando le parti interne di un orologio da taschino grazie 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 per la vostra attenzione se volete maggiori informazioni ecco il nostro sito www.elettronicadidattica.com se volete potete anche iscrivervi al nostro canale su youtube grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video a presto